La punta L è una punta sferica, adatta per la dry manicure. Ha un grit aggressivo e la sua forma è quella di una sfera piccola. È una punta diamantata, le cui misure sono di 1 mm per quanto riguarda il diametro e di 1 mm per la lunghezza della testa. Grazie al suo grit aggressivo, è una punta adatta ad effettuare la manichio russa in unghie difficili che presentano cuticole ed eponicchio attaccato al letto ungueale, ad esempio le unghie unicofagiche. Va utilizzata a bassa velocità ed è una punta universale che si adatta alla maggior parte delle frese. Non crea calore. Ed è sterilizzabile, quindi di lunga durata.